Ok ragazzi, lo scopo di questo video è quello di analizzare, imparare a riconoscere e fare un paio di riflessioni sui discorsi d'odio. E naturalmente, visto che la mia indole, ma soprattutto, è l'unico modo socialmente accettabile per stigmatizzare certi comportamenti, il video avrà il consueto tono umoristico. Ok ragazzi, quando una sera pubblicate un video in cui affermate cose di questo tipo? Io odio tutti, tutti gli ebrei, odio tutti, tutti gli israeliani, dal primo all'ultimo, tutti. E il giorno dopo ne pubblicate un altro per giustificarle. Che cosa potrà mai andare storto? Ebbene sì, non solo Cecilia Strada non si scusa per quello che ha detto, ma lo ribadisce con forza. Vediamo insieme la clip. Questo è il video di risposta a tutti quelli che si sono organizzati tramite i loro canali Telegram Secretucci. Ora, non voglio assolutamente essere offensivo, ma già fin dalla prima frase si evidenzia un pensiero quanto meno paranoide. Tecnicamente e clinicamente parlando qualcun altro direbbe un pensiero paranoico, perché la signora Cecilia Parodi sta sostenendo che contro di lei ci sia un complotto organizzato da persone che si riuniscono su Telegram in gruppi segreti. Cioè, la signora Parodi non pensa che quando pubblica un video con i contenuti che abbiamo visto qui e qui, la gente possa indignarsi, protestare e perfino dirgene quattro. No, 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 no. Si tratta di un'organizzazione che si riunisce probabilmente in un gruppo chiamato Gruppo Segreto dei Savi di Sion o qualcosa del genere. Lei pensa realmente questa cosa qui e che cioè ci siano dei gruppi organizzati per fermarla, quando in realtà si scrivi delle bippate sui social e queste bippate sono molto, molto grandi, molto, molto offensive, molto, molto pericolose, fra virgolette, è normale che le persone spontaneamente reagiscano. Per venire a fare una shitstorm sotto il mio video, in cui indubbiamente avevo una crisi di nervi. Indubbiamente. Questo è un dato interessante, perché ci dice comunque che il precedente video, qualora qualcuno non l'avesse compreso, è stato pubblicato di getto. Quindi non l'ha pianificata quella pubblicazione. Il punto è che quando succede una cosa del genere, nel ventunesimo secolo è facilissimo, perché puoi pubblicare di tutte e di più con un click singolo in pochi secondi, puoi o rivendicare i tuoi contenuti, oppure puoi scusarti per quello che hai detto. Io personalmente ritengo che durante le crisi di nervi tendi a dire esattamente quello che pensi. Il tuo pensiero non è alterato, al massimo esasperato. Quindi, se pensi delle cose brutte e cattive, ovviamente non posso che pensare che tu sia una brutta persona. Ma quello, ripeto, è un pensiero mio. Il problema oggettivo è che dici esattamente quello che pensi. E quello che pensi nei confronti di un intero popolo, di una minoranza etnica o religiosa, non è esattamente carino. Ma siccome utilizzo i social come minchia mi pare a me, quindi anche per sfogarmi, e non devo rendervene conto a voi, e non siete il mio analista... Ok, prendo atto del fatto che la signora deve rendere conto a un analista. Ma trascurando questo aspetto, non esattamente banale quando sei una figura pubblica, resta il fatto che l'assunto di base, cioè il fatto di non dover rendere conto a nessuno su come usi social, non è così, non è vero, non corrisponde a realtà. Intendo dire, anch'io posso avere un'automobile e magari anche un'arma. Ma non vale la regola del tipo, l'automobile e l'arma sono mie, le uso come bippo mi pare. No, non funziona così. Ci sono delle regole che mi impongono di utilizzare l'automobile in un certo modo e la mia arma in un altro modo. Non posso andare in giro, per esempio, correndo a 180 km orari tenendo la corsia di sinistra, cioè invadendo la corsia opposta. Così come naturalmente a capodanno non posso uscire per strada sparando allegramente come si usa in certi paesi medio orientali, perché correrei il rischio di ferire qualcuno che magari festeggia dal balcone. Allo stesso modo sui social non puoi pubblicare quello che bippo ti pare, perché puoi incorrere nel reato di diffamazione oppure ancora nei reati di diffusione d'odio. E per inciso, sì, lo posso avere un crollo di nervi dopo nove mesi di genocidio in cui gli israeliani massacrano, stuprano, ammazzano, demoliscono, fanno morire di fame, eccetera, eccetera, eccetera. Lo posso avere un crollo di nervi. Il problema non è il crollo di nervi. C'è gente che sui crolli di nervi, i pianti, le urla, ci ha costruito delle carriere, spesso effimere, ma ce le ha costruite. Il problema qui è che la signora sta accusando un intero popolo di aver commesso delle atrocità, quando sinceramente non ci sono prove di questi comportamenti. Sarei curioso di sapere se effettivamente ogni israeliano è solito abbassarsi i pantaloni, la gonna e infilare parti del suo corpo o oggetti all'interno di altri esseri umani. Io francamente non credo che sia una pratica esattamente all'ordine del giorno. Non ricordo neanche, sinceramente, ma qui il difetto può essere mio, di aver visto segnalazioni presso le Nazioni Unite o altre organizzazioni in relazione a comportamenti scorretti di questo tipo. Ed ovviamente, quando accusi un intero popolo di crimini di guerra o contro l'umanità che non ha commesso, stai spargendo odio. E questo odio, in alcune nazioni e a determinate circostanze, è perseguibile a norma di legge. Ma questo non significa che io sia pazza e che io abbia bisogno di un TSO. Da avvocato non può che sfuggirmi una nota di disappunto e un... Peccato, un TSO ci sarebbe stato benissimo. Ma non per dare contro alla signora Cecilia Parodi. Perché, molto banalmente, se fosse stata incapace di intendere di volere totalmente o quantomeno parzialmente, non potrebbe neanche teoricamente essere condannata per i reati eventualmente commessi o usufruire quantomeno di una riduzione della pena. Il bisogno di un TSO ce l'ha chi governa Israele e chi indossa la divisa di quello... Ora, al di là del fatto che quelle che indossano i militari non sono divise ma sono uniformi, prendiamo atto del fatto che, secondo la signora, tutto il governo e soprattutto tutti i militari di Israele sono dei pazzi scatenati che dovrebbero essere contenuti in un istituto di igiene mentale o qualcosa di simile. Ecco, anche questo è offensivo, perché la signora probabilmente non riesce a capire, non sa o non vuole ricordare, che Israele non è entrato a Gaza per sport. E l'operazione militare era inevitabile, perché non è che puoi andare a caccia di decine di migliaia di terroristi con i metodi convenzionali della polizia. Tra l'altro la striscia è anche autonoma, si gestisce da sola, non ci puoi andare con dei poliziotti ad armamenti leggeri. Sarebbero infatti sopraffatti nell'arco di pochi minuti. Ma oltretutto, ripeto, gli amassoni hanno lanciato qualcosa tipo 8.9500 razzi nel solo mese di ottobre. Israele ha avuto più di 100.000 persone sfollate e forse queste persone non sono ancora oggi in grado di tornare nelle loro case. Quindi, prima di dare dei pazzi assassini con la bava alla bocca a dei soldati che difendono le proprie famiglie, io sinceramente ci rifletterei un attimino. Tra l'altro è evidente che la signora Cecilia Parodi qui sta deumanizzando completamente gli israeliani, perché così è più facile fare del male a questa gente, perché molto banalmente lei non considera gli israeliani esseri umani. No, non è uno Stato, è una colonia illegale. In realtà lo Stato di Israele è riconosciuto dall'ONU a far data dal 1946 e ormai tutte le nazioni del mondo, quasi, lo riconoscono come tale, tant'è che permettono a questo Stato di avere ambasciate e consolati. E va a compiere questi atti genocidi. Quella signora Parodi, pure giudice della Corte Penale Internazionale, non sapevo. Perché quelli sono degli assassini, io posso avere una crisi di nervi, ma finora io non ho ammazzato nessuno. Ora, non voglio assolutamente mettere il carro armato davanti ai buoi, ma nel nostro Codice Penale esistono anche altri reati, oltre al bipicidio. Esiste per esempio la legge Mancino, che sarebbe il caso di studiare e analizzare, anche prendendo lo spunto dai video della signora. Ho sbagliato soltanto in una piccolissima cosa. Non proprio tutti, tutti gli ebrei o gli israeliani odio. E questo può essere un inizio. Adesso dici che hai sbagliato, ci sei andata giù pesante, odi semplicemente il governo e la chiudi lì. Perché, per esempio, salvo Ilan Pappé, salvo Moni Ovadia. E invece no, salva soltanto Ilan Pappé, che francamente non so chi sia e non mi interessa saperlo, e Moni Ovadia, che purtroppo so chi è e non posso non saperlo. Ma il concetto di fondo è che la signora Cecilia Parodi vuole comunque vedere qualche decina di milioni di persone appese a testa in giù in piazza Tiena Men. Tutti, tranne un paio, quelli che tendenzialmente le danno ragione. Che poi, ragazzi, salvo errore da parte mia, questo Ivan Pappé, quello che è, e Moni Ovadia, sono entrambi maschi, non si possono né accoppiare né riprodurre. Forse accoppiare sì, potrebbero, ma certamente non possono riprodursi e quindi la signora vuole comunque l'estinzione di un'intera minoranza etnica e non è una cosa accettabile nel ventunesimo secolo. E che sono state insultate e minacciate esattamente come state facendo con me, visto che voi siete così solidali tra voi della comunità. Ecco, questa è un'altra convinzione tipica, quantomeno a livello statistico, dei bippisti. Per qualche strana ragione, se tu difendi una minoranza etnica e religiosa, sei sicuramente uno di loro. E noterete che la signora parla di solidarietà fra comunità. L'idea che ci siano persone come me e come la stragrande maggioranza di voi, che banalmente si indignano perché c'è qualcuno che aggredisce una minoranza etnica e religiosa, non la sfiora neanche la signora. Insomma, per lei, se difendi quella comunità specifica, tu ne sei parte integrante, fai parte del problema e vai combattuto. Ragazzi, questa convinzione e questo atteggiamento sono proprio quelli che hanno portato al disastro la Germania e l'Italia nel secolo scorso. Da che esistete? L'unica cosa che sapete fare è minacciare, usare violenza e fare gli strozzini. Quindi chiedere soldi o far spendere soldi alla gente. E questo è il tipico discorso d'odio. La signora sta affermando che un'intera minoranza etnica e religiosa ed edita all'uso della forza, delle minacce e dello strozzinaggio. La signora sta dando un'immagine negativa, sprezzante, di un'intera minoranza etnica. Personalmente questo lo ritengo un discorso d'odio. Poi, naturalmente, spetterà alla magistratura confermare o smentire la mia tesi. Continuate pure su questa linea. La musica sta cambiando e cambierà perché l'ONU ha inserito Israele tra le nazioni che uccidono i bambini. Sarei davvero curioso di vederla, questa lista. La signora sta dicendo cose letteralmente senza senso. Al massimo esiste un elenco di stati che possono promuovere il bipismo o essere delle dittature, ma non è esattamente l'ONU a curare queste liste. Queste liste vengono gestite a livello internazionale. Per esempio, il Parlamento europeo ha stabilito che la Russia è uno stato sponsor del terrorismo. Lo ha fatto il Parlamento europeo, non l'hanno fatto le Nazioni Unite, dove peraltro la Russia è membro permanente e ha diritto di veto. Sinceramente non mi risulta che le Nazioni Unite penalizzino Israele in alcun modo. Se voi scoprite qualcosa di simile, condividetelo, ma personalmente per me è il prodotto, questa affermazione, è il prodotto di odio e ignoranza, perché diversamente non me lo spiego. Tra le organizzazioni terroristiche che uccidono i bambini... Cioè, praticamente è una fotocopia dello Stato amassone. Questa ricostruzione mi lascia alquanto perplesso. E la Corte Penale Internazionale e la Corte Internazionale di Giustizia stanno indagando i leader di questa colonia illegale e stanno indagando sui crimini che vengono commessi. Certamente, ma tra essere indagati ed essere condannati per aver consumato un crimine c'è una bella differenza. Visto che la signora vuole vedere un'intera etnia, minoranza e religiosa appesa testa in giù in piazza Tiena Men, non mi stupisce che abbia queste uscite. Uscite che sono compatibili al 99, forse al 100%, con quelle dei tizi che sostenevano i regimi tedeschi e italiani degli anni 20, 30 e primi anni 40, dove praticamente la giustizia era un optional. Si partiva dal presupposto che il tizio che ti stava antipatico era colpevole e poi, in un modo o nell'altro, il poveraccio non ne usciva vivo o finiva in carcere. Siamo più o meno allo stesso livello di pensiero. Per chi invece ragionasse in maniera un filino più strutturata, ricordo che sì, c'è l'indagine in corso, ma al momento attuale la Corte Penale Internazionale non ha spiccato nessun mandato di cattura, cosa invece che è stata fatta nei confronti di Vladimir Putin, del garante per i diritti dell'infanzia russa, Belova, del ministro per la difesa, Shoigu, ex ministro, e per il capo di Stato Maggiore, Gerasimo. Questo è successo perché nel caso dei quattro russi c'erano forti indizi di prova circa la loro responsabilità nel commettere crimini di guerra per Shoigu e Gerasimo e per il bipicidio di minori nei confronti di Vladimir Putin e della Belova, perché hanno deciso di prendere dei minori ucraini, portarli via dalle loro famiglie e dalla loro cultura e crescerli come russi. E qui c'erano e ci sono dei forti indizi per cui la Corte Penale Internazionale ha detto questa gente è ricercata. Viceversa nel caso di Netti, che certamente non è uno zuccherino, è detto fra di noi, non è che sia proprio il presidente più popolare di sempre, dell'unica democrazia del Medio Oriente, è indagato ma non c'è nessuna misura cautelare. Evidentemente non ci sono prove così forti come la signora pensa. Sulla striscia di Gaza che ricordo è un lager costruito da Israele. Anche qui la signora recita letteralmente a pappagallo i soliti luoghi comuni. In realtà nel 2007, quando la striscia è diventata indipendente, era più o meno così. Adesso mi dici che è una prigione a cielo aperto, posso essere d'accordo, ma questa prigione l'hanno creata gli amassoni. Dopo due anni circa dalla loro presa del potere, hanno eliminato fisicamente l'opposizione e da allora hanno instaurato una vera e propria dittatura. E sotto una dittatura non puoi naturalmente essere libero. Nonostante ciò, buona parte dei residenti poteva andare a lavorare oltre frontiera, perché nel momento stesso in cui tu mi dici che quell'area è uno stato indipendente, allora riconosci il fatto che questo stato ha dei confini e se lo stato confinante non vuole la tua gente, ha tutto il diritto di lasciarla fuori. Nel caso specifico però c'erano centinaia di migliaia di persone che passavano la frontiera ogni giorno per andare a lavorare dall'altra parte. Ovvio che il 7 ottobre ha cambiato tutto. Ritornando sul fatto che posso salvare dei personaggi del calibro di Moni Ovadia o di Lampapè, restano comunque delle eccezioni. Infatti la signora ha sparso e continua a spargere odio a piene mani su intera minoranza, salvo per l'appunto due, tre, quattro individui. Un po' pochini rispetto alla decina di milioni di persone che costituiscono quella comunità. E resta comunque il fatto che negli ultimi 76 anni i cittadini israeliani non hanno mosso un dito per i diritti dei palestinesi. Non è assolutamente vero. Anche questa è una generalizzazione odiosa. In realtà moltissimi cittadini si sono mossi, mobilitati e hanno anche votato per riuscire a raggiungere un accordo con i loro bellicosi vicini. Ricordo, tra le altre cose, che c'è stato anche un primo ministro che è stato eliminato da degli estremisti perché aveva quasi raggiunto un accordo con i vicini di casa. Hanno ballato e festeggiato su ogni morto palestinese. Hanno continuato. Porca puttana, mi si incastrano anche le parole dalla rabbia che ho. Sinceramente, più che rabbia, a me sembra vero e proprio odio. Anche perché sta continuando con le generalizzazioni. Quindi non ho capito perché io dovrei dire che vi voglio bene, che vi capisco? In realtà nessuno chiede alla signora di mentire. Ma proprio per questo la signora non è che deve dire vi voglio bene. Semplicemente dovrebbe astenersi dal dire bippate sesqui pedali che fomentano l'odio. E che voi siate degli sfigati con un enorme coda di paglia. Lo ammetto! Colpevole! Ho un'enorme coda! Non esattamente di paglia! Wink wink! Almeno io ci metto la faccia. Raga, ma siamo sicuri che ci stia mettendo la faccia. Che una comunità di psicopatici che da nove mesi fa i video su TikTok, ballando e cantando, festeggiando i morti, i bambini ammazzati e le madri in lutto. Francamente non frequento TikTok perché, sapete, è un mass media controllato dai cinesi e con certi regimi io non vado esattamente d'accordo. Ecco, ho una certa idiosincrasia verso le dittature. Fatemi sapere se effettivamente c'è questa comunità di folle festanti di fronte ai bombardamenti e alla guerra che si sta svolgendo. Io ho motivo di ritenere di no. Normalmente su X, Facebook, quei pochi video che passano, li ho visti criticare aspramente quanto è accaduto il 7 ottobre e naturalmente criticare aspramente gli atti illegali compiuti dagli amassoni, tipo far mancare il latte ai bambini, intercettare gli aiuti internazionali e cose di questo tipo qua. semmai ho visto dall'altra parte esaltati andare in giubilio perché veniva eliminato un soldato israeliano. Non ho visto esattamente il contrario, però ripeto, se trovate qualcosa di simile segnalatemelo. Dica a me, a me, che sono una psicopatica. Io... Tecnicamente lo psicopatico è colui che ha difficoltà a percepire le emozioni altrui e che tratta gli altri come se fossero oggetti invece che persone. Ora, francamente, non è il mio ruolo, non avrei neanche il tempo e la voglia, sebbene un minimo di competenze in ambito psicologico e psichiatrico le abbia, per valutare la signora. Semplicemente rilevo che effettivamente per lei una certa minoranza etnica e religiosa non sembra essere costituita da esseri umani, ma più che altro da oggetti che odia e che vorrebbe tanto rompere. Io in terapia ci sono già stata per degli anni. Come faccio a dire qualcosa del tipo... Ti dirò, la cosa non mi stupisce. Da professionista e senza risultare offensivo. Quindi penso di essere una persona certificata da un professionista come sana di mente. Quante persone effettivamente sane di mente sentono la necessità e l'impulso di avere una certificazione che attesti il loro status di sanità mentale? Che io in questo momento sia fortemente stressata perché state ammazzando i miei amici. Cioè, tutti noi stiamo eliminando i suoi amici? Questa generalizzazione, cioè il puntare il dito contro di tutti accusandoli per dei crimini, reati o comunque delle condotte che nessuno ha commesso, è odio. Come puoi puntare il dito contro dei cittadini italiani dicendo che sono loro ad eliminare delle persone che si trovano a migliaia di chilometri di distanza e che stanno combattendo una guerra loro? E il fatto che io vi dica che prima o poi vi ritroverete appesi come dei salami in una grande piazza, non è incitamento all'odio? Non lo è? Stupiscici. Perché io non sto dicendo alla gente organizziamoci, andiamo a prenderli, appendiamoli per i piedi. Io sto dicendo che avverrà perché questi sono i corsi e ricorsi della storia. No, non è incitamento all'odio perché lei non dice esplicitamente andiamo a prenderli, ad appenderli. No, assolutamente. Lei si limita a dire che un'intera popolazione, anzi un'intera etnia slash minoranza religiosa è composta da assassini, usurai, persone che minacciano, usano la forza, massacrano bambini, ma non è assolutamente incitamento all'odio perché lei non dice andiamoli a prendere. Ora, non voglio essere offensivo, ma questo modo di ragionare, quantomeno ipocrita, denota un'incapacità di ragionamento unica, oppure viceversa denota una ipocrisia per l'appunto over 9000. Insomma, almeno 100 anni fa i tizi che volevano perseguire determinate minoranze non si vergognavano di andarli a prendere direttamente, qua è ancora peggio perché ci si aspetta che qualcun altro faccia il lavoro sporco, quello manuale, il che mi fa supporre che la signora appartenga alla AIG class italiana, cioè non sia esattamente una tizia che vive nelle case popolari. E i dittatori, i criminali e gli assassini una bella fine non l'hanno fatta mai e quello che io vi ho detto è che io sarò in prima fila a guardarvi. Uno dei problemi consiste nel fatto che la signora non ha mai parlato soltanto dei dittatori, perché i dittatori ci può stare che li odi. Il problema è che la signora voleva a piazza Tiananmen per metterci tutti gli appartementi a una determinata minoranza etnica e religiosa e lo ha ribadito anche 30 secondi fa. Quindi è chiaro che il suo è comunque un discorso d'odio. Che voi siate appesi, che voi siate ammanettati, che voi siate in un buco a nascondervi. Io sarò in prima fila a vedervi. Ed ecco che torna a rivolgersi a tutti noi. Cosa centriamo noi con i dittatori? Nulla. Quindi sì, il discorso della signora è un discorso d'odio. E magari lei sarà in prima fila a vederci e noi saremo in prima fila se, nel caso, qualche magistrato dovesse interessarsi alla sua condotta. Vedremo. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se poi vi piace il canale perché i contenuti non sono esattamente standard, come sempre valutate l'ipotesi di diventare un Patreon, abbonatevi, oppure ancora, cosa che non vi costa nulla, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il link al video con i vostri amici che sono interessati alla materia e naturalmente lasciate un mi piace grande e grosso qui sotto. In difetto, se non farete tutto questo, in un futuro alternativo, remoto e decisamente ipotetico, potreste avere bisogno di sostegno psicologico e trovare la signora Cecilia Parodi come vostra assistente all'igiene mentale. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Grazie di tutto per tutto e a presto.